Per cancellare l'iscrizione dica Cancellare. Cancellare. Tra tutti gli animali dei quali parleremo abbiamo il cinghiale, il capriolo, il cervo, il daino, il mufflone, lo stambecco. Grazie per usare Caccia Relax. Mi scusi non l'ho capita. Per cancellare la sua iscrizione a Caccia Relax dica Cancellare. Cancellare. Vuole cancellare la sua iscrizione? Risponda alla domanda di sicurezza. Sì. Qual è il suo animale preferito? Il mufflone. Mi scusi non l'ho capita. Riprovi un'altra volta. Qual è il suo animale preferito? Il mufflone. Sbagliato. Il suo animale preferito è il mufflone. Lei continuerà ad essere iscritta.